ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Amin oggi siamo nel vlog del cellulare dove mi è arrivato dalla Cina un anno fa l'ho ordinato e oggi mi è arrivato c'è scritto Amin Salat in cinese da Cina e c'è scritto la marca del telefono non so che marca è ma giuro che lo scoprirò quando l'aprirò tanto tempo per il mio telefono iniziamo sono così eccitato era bello sigillato come vedete era sigillato con lo scocci nero con la Cina mio padre è firmato per questo ho speso 200 euro per questo telefono ah pure pure carta l'altro l'altro qua questa è una carta la l'ho scritta qua Amin Salat da Cina questo non so che marca è questo telefono non lo scoprirò quando lo aprirò ok non so mia ecco che marca era era un nuauei un nuauei nuauei era ecco che cos'era un nuauei ok un anno cosa è il cellulare dov'è libretti libretti carica batteria il cellulare le cuffie il cellulare c'è una garanzia ho speso 100 euro per la spedizione 200 per il telefono e adesso non c'è il telefono ma mi prendete per il culo non c'ho neanche le cuffie c'è soltanto il caricabatterie mi prendete per il culo se me lo state prendendo per il culo c'è tutto qua tranne le cuffie e il cellulare è impossibile è impossibile manca il cellulare non è possibile mi avete fregato non è impossibile c'è tutto il libretto il caricabatteria tranne il cellulare le cuffie c'è pure la spedizione dello scontrino 300 euro speso per un telefono libretto carica che cavolo dopo un anno che ho aspettato questo bellissimo giorno niente un telefono da buttare proprio da buttare da buttare con la scatola che caso dopo un anno di aspettare questo telefono mi date questa schifezza questa e questo dopo un anno che sto aspettando questo bellissimo momento ecco una fregatura una fregatura dopo che questo telefono io lo sto aspettando da un anno non so che devo fare no che devo fare devo riprendermi i miei soldi non i miei soldi sono di che ho speso il mio padre non i miei soldi